Auriga è presente a CB 2009. Auriga è ormai da 15 anni nel mondo del corporate banking, internet banking. La nostra prima realizzazione di internet banking risale ormai appunto più di 15 anni fa. In questi anni quello che Auriga ha cercato di fare è di innovare. Il nostro slogan è l'innovazione nel nostro DNA perché facciamo dell'innovazione, il nostro punto di forza e soprattutto l'integrazione nei vari canali, quindi l'utilizzo dei servizi corporate banking, internet banking attraverso la molteplicità di canali disponibili e quindi di ATM piuttosto che l'iPhone, mobile e naturalmente internet. Questo per rendere disponibile alle banche degli strumenti flessibili che permettano di essere presenti sul mercato. Quindi l'innovazione è utilizzare gli strumenti tecnologicamente all'avanguardia, oltre a garantire quindi un time to market, garantiscono anche un saving dei costi, un'ottimizzazione della modalità di erogazione dei servizi. Nell'ambito del cross selling, quindi della vendita dei servizi da parte delle banche attraverso gli strumenti disponibili, si permette quindi all'utente finale di poter usufruire al meglio e quindi utilizzando il canale più congeniale all'utilizzo appunto dei servizi. Ecco, quindi Auriga si propone come partner tecnologico per l'erogazione di servizi, di servizi ad alto valore tecnologico e ad alto contenuto in termini di funzionalità e in termini di prestazione. Elementi caratterizzanti della nostra offerta sono senz'altro la sicurezza che è il nostro punto di attenzione massima, visto comunque le frodi o comunque i tentativi di frodi che ci sono a livello nazionale o anche internazionale su strumenti che sono facilmente attaccabili e quindi abbiamo implementato strumenti di varia natura che si adeguano sia al canale sia alla tipologia di clientela e alla tipologia di utilizzo dei servizi.